la fischia l'arbitro si può cominciare questo terzo appuntamento la mattinata tra w gialla contro roseto categoria 2016 per il roseto che mette il pallone in mezzo delle 1 a 0 volontariamente quindi la mette dentro passa avanti allora la squadra ospite non è messo in mezzo era presente l'appuntamento il giocatore del roseto con un bel colpo di testa fuori di pochissimo si fa vedere nava poi il pallone messo in mezzo altra conclusione palo esterno attenzione alla possibilità per il roseto grandissimo il portiere del dablio adesso 2 contro 1 quirini col destro la rete dell 11 quirini sempre lui pallone è uscito allora fine primo tempo appena fischiato l'arbitro adesso decoreranno gli ultimi 18 minuti risultato è sulla parità ancora il difensore adesso prova a riconquistarla pallone passate su tre contro uno quirini prova col destro ancora lui il 2 a 1 della w porta in questo secondo tempo non è giocato a sinistra per la gian maria a cercare del parco il pallone non passa ancora quirini passa in qualche modo del roseto conclusione col destro barbarini attentissimo ancora una volta conclusione questa volta entra il tiro di destro due pari del parco solo davanti al portiere eccolo qui il gol della parità due pari parte del parco ancora lui concude col destro palo 5 e mezzo al termine del parco riprende il pallone bello bello il tocco per la conclusione grande gol doppietta personale 3 pari ultima occasione può ripartire adesso del parco stoppato quirini se ne va a destra sterza poi la riprende mette il pallone in mezzo allora può abbassare così 3 a 3 tra w gialla roseto calcio non è riprende quanto il rapporto Grazie.